Buonasera, cosa ci dobbiamo aspettare per domani, giornata di ferragosto, dopo questo break un po' piovoso che è mattina abbastanza perturbata e il pomeriggio un po' coperto? Nelle mattinate di domani avremo cielo poco nuvoloso in tutti i settori di pianura con l'avanzamento delle schiarite da nord-est che andranno a rasserenare completamente tutta la pianura. Nelle montagne invece rimarrà ancora un po' di copertura nuvolosa. Ma nel pomeriggio, giorno diciamo la parte della giornata più importante, avremo sole in tutta la pianura e in tutte le coste mentre nei settori montani avremo delle possibili precipitazioni nel nord del Bellunese, quindi su del Dolomiti. Invece nel resto delle prealpi avremo cielo poco nuvoloso. Alla sera invece il cielo sarà sereno in tutti i nostri settori. Ma cosa ci dobbiamo aspettare dopo questo break? E diciamo che avremo ancora una rimonta anticiclonica però non più africana ma delle azore, quindi con caldo più sopportabile. Ma per avere tutti gli aggiornamenti vi invito a seguire machetempofa.it